Allora, questo ragazzo ha lavorato con noi circa quattro anni e lavora tranquillamente. Quando lui ha fatto un accidente fuori con il suo motorino, con un'altra macchina, allora dopo tre mesi, quattro mesi di furzonio, lui è entrato al lavoro. Dopo una settimana, che loro l'hanno visto, che lui non ce la fa perché la sua mano fa male, lo hanno cancellato via così, senza motivo, senza niente. Il povero, il povero, il povero, il tempo lì non lavora. Lo vive da soldi che gli danno famiglia, gli dà il suo fratello e gli dà le altre persone che vi dono aiutare. Tu te lo conosco lui? Quando? Entra in costruzione. Così? Cinque mesi. Cinque mesi, sei mesi. Se erano due mesi, potevano sempre fare l'avvertenza e rientrare. Adesso se riusciamo a farti entrare, bisogna che entri nel nostro paese al tuo primo punto, il fatto che entra anche tu, non vorrai riscontrare. Mi pare anche con questo ragazzo, ok. Alla fine, una seconda attività. Lo vedo a te, eh.